Ancora anziani in questa terza, un miglior, non corre Tamir, very nice, ne rimangono in nove, pensate che la quota più bassa al totalizzatore è quattro euro quello di Ramon Rigal, quindi corsa apertissima, arretrato razionale imitato da Orocaf, vi ricordo sono in nove il forfè di Tamir. Galoppa il quattro Ramon Rigal e via la macchina in velocità. Si lotta per il comando, a largo di tutti, tenta di scendere Pierino, ma glielo impedisce per il momento, Oklahoma insiste e passa all'attacco della piatta, il buon Pierino. Lancio in tre, dici e sei, Pierino al comando nei confronti di Oklahoma che si affaccia per anticipare la Rosellina. Allunga Pierino, torno a buono buono lunghi birilli l'avversario, quattrocento, trenta e un battito, punta in avanti Rosellina pedinata da Orocaf e la Rosellina aggredisce Pierino. Non è Pierino del bar, non è Pierino delle barzellette, ma è quello di Claudio De Filippo. 44,9,600, i cavalli che affrontano la piegata, Pierino, Argina, Rosellina, Orocaf ne ha presa la scia, poi Oklahoma a precedere gli altri. Mezzo miglio da parte di Pierino nell'ordine dell'1,1,4,16 e mezzo di frazione, si viaggia da 1,17. Cavalli di fronte, si è adeguata la Rosellina, si è adeguato a Orocaf, poi gli altri. Si va al completamento del chilometro, ora torna la carica, Rosellina, 16,7 il chilometro, Oklahoma è di dentro chiusa, Pierino al comando, Rosellina fa sul serio, la Pariglia, cavalli che affrontano la curva finale, viene via Smart la Sol, 14,8, fan 1,31 e mezzo, tre quarti di miglio, regge ancora Pierino, regge ancora Rosellino, Orocaf deve essere sostenuto, non c'è spazio, ora ce l'ha Oklahoma e Lomino dovrebbe venire via a largo di tutti, viene via Oklahoma, Oklahoma va sul duo di testa, passa Rosellina, impegnato da Oklahoma, cavalli in zona traguardo, lotta incerta e sul palo, la lotta è incertissima, con i due perfettamente apparigliati. E che arrivo signori, chapeau, tra Nicola Merola e Vincenzo Luongo, dobbiamo attendere il giudice d'arrivo, 2,1 e un battito, 1,15 e 7, andiamo a rivedere questa immagine veramente molto interessante, molto preziosa, perché le due sono perfettamente, con Oklahoma a largo, che copre Rosellina. Per il terzo posto, andiamo un po' più avanti, almeno diamo la sicurezza del terzo, ecco, andiamo un po' più avanti, sul palo, dovrebbe essere il 7 di Orocaf, linea allo studio.